I 10 posti più belli di Lisbona. Al decimo posto Tram 28. Non perderti un viaggio emozionante nell'insolito mezzo di trasporto. Al nono posto Elevador de Santa Justa. Inizialmente l'ascensore era movimentato da un motore a vapore. All'ottavo posto Iadu. Quartiere ricco di storia situato tra Bairro Alto e Bikesha. Al settimo posto Alfama. È bello perdersi tra le viuzze e le piazze fino a raggiungere i punti panoramici. Al sesto posto Castello di San Giorgio. Oltre alla visita del castello è possibile godere di uno splendido panorama sulla città. Al quinto posto Bairro Alto. Famoso per la sua vita notturna ma anche per custodire secoli di storia. Al quarto posto Monastero de los Geronimos. All'interno del meraviglioso monastero si trova alla tomba di Vasco de Gama. Al terzo posto Bikesha. Cuore di Lisbona. Ideale per iniziare l'esplorazione delle meraviglie che ha da offrire la città. Al secondo posto Convento do Carmo. Suggestivo convento semidistrutto a causa del terremoto del 1755. Al primo posto Torre di Belen. La torre è stata costruita come fortezza per combattere i pirati. Grazie per aver visto il video e se ti è piaciuto condividilo.